Il bilancio del 2018 del cosiddetto Focus Drangheta nella piana di Gioia Tauro è indubbiamente positivo. Numerosi servizi effettuati per arginare ogni forma di illegalità in un territorio particolarmente problematico. Veri e propri gruppi di lavoro hanno profuso il massimo sforzo per raggiungere gli obiettivi prefissati, seguendo le linee guida del prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari e del questore Raffaele Grassi. Più che soddisfacenti i risultati ottenuti dalla Polizia di Stato, del Commissariato di Gioia, guidato dal primo dirigente Diego Trotta. Più che soddisfacenti i risultati ottenuti dalla Polizia di Stato, dal Commissariato di Gioia, guidato dal primo dirigente Diego Trotta, dalla Polizia Metropolitana, gli ordini del Comandante Domenico Crupi e dalla Polizia Municipale, del Comune di Gioia Tauro, gestito dalla terna commissariale straordinaria. Ben 109 per occupazione di suolo pubblico per un totale di circa 20.000 euro, 17 verbali per infrazione al codice della strada, 40 sanzioni amministrative per pubblicità abusiva per 18.000 euro, 16 sanzioni amministrative per aver dato in affitto l'abitazione a cittadini extracomunitari senza il relativo contratto. Infine sono state individuate 20 abitazioni con contatore non censito al Comune di Gioia Tauro che utilizzavano l'acqua potabile a cui sono state elevate sanzioni amministrative per circa 5.000 euro, denunciate a piede libero 10 persone per furto d'acqua, altre 12 per costruzione abusiva, 5 per occupazione abusiva di immobile e di proprietà del Comune e una per aver costruito una stalla senza autorizzazione comunale sanitarie. Per quanto riguarda la lotta all'evasione, nella scorsa settimana è stato annunciato un decisivo potenziamento dell'azione di contrasto, un fenomeno di per sé dannoso, ma che in un Comune di dissesto come quello della Piana rappresenta una criticità che penalizza e rallenta ancora di più l'erogazione dei servizi essenziali. Una lotta, ha spiegato il Prefetto Repucci, che si fonderà su iniziative forti, individuazione degli allacci abusivi e il possibile distacco della fornitura idrica a seguito di una procedura infruttuosa di diffida a regolarizzare la propria posizione entro tempi ragionevoli. Il sistema delle entrate a Gioia registra percentuali preoccupanti nel periodo 2013-2015. L'attività di riscossione dei principali tributi ha avuto infatti una media inferiore al 30%.